buongiorno a tutti allora dobbiamo tornare sulla questione bollette perché qui stiamo demolendo completamente la piccola media impresa nazionale stanno arrivando bollette che non sono alte aumentate sono totalmente irraggiungibili per le imprese si tratta di bollette di migliaia e migliaia di euro per 4 per 5 quello che pagavano precedentemente le attività così chiudono tutte ci sono notizie di questi giorni di chiusura addirittura di una catena di alberghi e c'è notizie continue ma anche nel piccolo cioè me lo vengono a dire anche a me di questa situazione nel locale di attività che sono ormai pronte a chiudere o al limite pagare l'affitto ma tenere tutto fermo perché la situazione non è assolutamente gestibile in tutto questo marasma c'è un governo in questo momento in ogni caso perché chiaramente draghi è ancora lì ma non si sta facendo nulla ma da quanto emerge dalle varie dichiarazioni neppure la melonia ha in testa qualcosa per poter intervenire nel prossimo futuro e davvero non c'è tempo perché con quello che sta arrivando in questo momento ogni mese le attività perdono migliaia di euro e si avvicinano alla chiusura quindi io ritengo che davvero già due o tre mesi sia un range temporale totalmente irricevibile in questa situazione e aumenta anche la rabbia la rabbia che più che giustificata perché ci hanno messo in una guerra che non si può combattere che non si può vincere che non ha nessun senso per noi da essere portata avanti ci hanno quindi demolito con le sanzioni che avrebbero dovuto demolire la russia invece stanno demolendo noi ma soprattutto non stanno valutando nessun tipo di intervento diretto ed immediato come ad esempio stanno facendo altri paesi la gran bretagna ha fatto un maxi piano attraverso la sua banca centrale la germania fa un probabilmente un liberi tutti va per i fatti suoi con un aumento del deficit per poter intervenire qui nulla la cosa che a me sconcerta in tutta questa situazione l'ho detto più volte già in campagna elettorale lo ripeto adesso è perché nessuno tranne noi stia ricordando che esiste una maledetta banca centrale europea che per quanto ovviamente noi vogliamo tornare alla nostra sovranità monetaria ci mancherebbe altro ma in questo momento esiste da lì ed è più veloce chiaramente di un ritorno alla sovranità monetaria per cui non ci sono neanche gli accenni in questo momento perché non avremo una maggioranza che vuole lasciare la zona euro ma noi abbiamo una banca centrale che ci consentirebbe con un pulsante maledetto schiacciando un bottone maledetto di risolvere il problema il quantitative easing ve lo ricordate intervento illimitato da parte della banca centrale qualunque siano le somme per andare a pagare direttamente la differenza tra il costo della bolletta originaria quella maggiorata dovuta a questa situazione folle c'è un click da parte della banca centrale non è debito degli stati è un intervento diretto della banca centrale che poi si gestisce che può cancellare espandere il credito fare quello che gli pare senza costi per nessuno è solo un intervento monetario espansivo che non può provocare alcun tipo di danno perché qui la produzione si ferma perché le attività chiudono non c'è un problema da questo punto di vista quindi schiacciate questo maledetto bottone e accreditate i soldi basta un click si creano dal nulla porca miseria cioè veramente ce lo mettiamo in testa come funziona il cavolo di banca centrale non ci sono i nani che scavano sotto la bce l'euro le miniere di euro che sono finite è qualcosa di virtuale la banca centrale ha questo potere c'è il divieto per trattato di fare facilitazioni creditizie agli stati questa la follia di come abbiamo costituito la nostra banca centrale in europa ma puoi farlo per i privati come hanno fatto per le banche commerciali a cui hanno dato soldi limitati per sostenere il circuito bancario con il que e con draghi sempre li quindi draghi le conosce queste procedure che può schiacciare quel maledetto bottoncino per accreditare quei soldi no qui si vuole far chiudere le attività nessuno dice schiacciate il bottoncino ora e accreditate questi soldi evitate di far fallire no nessuno lo dice lo diciamo noi e più che altro a me interessa che questo concetto qui arrivi alle categorie alle associazioni di categoria perché dovete capire cosa chiedere mi sono fatto delle litigate in un confronto davanti un'associazione di categoria in toscana in campagna elettorale perché non la capivano perché loro stessi non riuscivano a capire ma come potete non capire l'intervento di una banca centrale che è l'unico l'unico rimedio per avere i soldi per le bollette domani mattina e per non chiudere non avete altro perché lo scostamento di bilancio dobbiamo aspettare il governo dobbiamo aspettare decisioni politiche chissà quando arriva intanto saltate con le bollette che arrivano non c'è altro la fine della guerra ahimè non c'è una maggioranza per portarla a termine siamo capaci almeno a chiedere quello che si può fare in questa maledetta zona euro oppure davvero c'è proprio la volontà deliberata di schiantare le imprese e le piccole e medie imprese come noi riteniamo e come noi pensiamo e che quindi questa crisi sia sfruttata per portare avanti il lavoro sporco e allora non c'è fretta per intervenire sulle bollette perché così intanto le aziende vanno definitivamente a rotoli per cui ribadisco si interviene con un pulsante si schiaccia un bottoncino la moneta emessa viene segnata al passivo mandato convenzionale la banca centrale non può fallire perché crea l'euro quindi fondamentalmente schiaccia un bottoncino accredita i soldi finito non ci sono problemi in infrazione non ci sono problemi di nessun genere c'è soltanto il beneficio immediato di sostenersi invece che andarsi a schiantare contro una parete questo è quello che devono chiedere associazioni di categoria questo è quello che chiederemo noi e vedremo a questo punto se nei prossimi giorni nei prossimi settimane organizzare magari qualche manifestazione a livello unitario con tutte le sigle del dissenso o per lo meno tutte le persone di buona volontà che vogliano portare avanti una soluzione fermo restando che ribadisco la guerra dovrebbe finire domani perché qui anzi rischiamo una terza guerra mondiale se continuiamo in sta follia però cioè obiettivamente in questo momento se volessimo essere un minimo responsabili nei confronti delle nostre imprese l'intervento da fare è schiacciare questo maledetto pulsante questo video mandato le associazioni di categoria perché non possono permettersi di rappresentare i propri associati se ignorano le basi della macroeconomia il funzionamento di una banca centrale le possibilità di una banca centrale se non ci credete guardate cosa ha fatto bank of ingland guardate un attimo e prima ancora riguardate un attimo come hanno reagito le banche centrali vere con la questione covid che forse magari capite il funzionamento di questo meccanismo la moneta non è un scarso la quantità di moneta una scelta politica il gold standard non esiste più da un secolo quindi stiamo parlando di niente per cui clic mandatelo ribadisco alle associazioni di categoria perché se qualcuno non inizia a predicare la giusta direzione qua c'è solo lo schianto per tutti un saluto